ciao a tutti ragazzi volevo fare un video per avvisarvi a tutti di cosa fare in tutte le piattaforme di gioco ovviamente per aiutarvi a non essere segnalati, non essere bannati eccetera volevo dirvi che se giocate perché di solito trovate gente che ha voglia di offendere, di minacciare e mandano immagini che per i bambini non possono vedere perché ci giocano anche tanti bambini, tanti ragazzini di piccola età vabbè, i bambini, i bambini, ci sono immagini che non potrebbero vedere e comunque volevo dirvi che se giocate con qualcuno e vi offendano voi non rispondete nel party, nella chat party non mandate né vocali e nemmeno scrivete offese a loro e se siete nel party con loro dovete stare attenti che loro non registrino a parte non dite nessuna né quando siete nel party con quelli che avete discusso non dite né parolacce né bestemmie e non li mandate nemmeno immagini scorrette o immagini che i bambini non possano vedere capite quale sono perché non lo posso dire specificatamente comunque non li mandate queste cose perché loro potrebbero farvi la segnalazione sulla play di quello che voi avete mandato e l'avete scritto e poi vi fanno la segnalazione e poi la sony procederà o a chiudervi l'account o a sospenderlo per un paio di giorni però se ve lo chiuderebbero sarebbe brutto quindi non dite né parolacce e nulla perché poi se putacaso vi bannano proprio la play non potrete più giocare con nessun account quindi state attenti a quello che fate o a quello che mandate non mandate niente di provocante niente di minacce niente di offese niente immagini scorrette e niente bestemmie niente perché se loro vi registrano o voi gli scrivete qualche bestemmia o qualche parolaccia e vi fanno una segnalazione vi chiudano l'account per sempre se sony vuole chiuderlo per sempre per sempre ve lo chiuderà per sempre quindi state attenti mi raccomando a quei che fate io lo faccio per aiutare sempre voi vi dico sempre le cose che mi vengano in mente e più perché ho sentito tanta gente per questa cosa quindi le persone che non sanno queste cose che sono entrati ora sulla play li voglio avvisare perché se voi avete un account di putacaso 3.000-4.000 euro di roba comprata più detti tutto per sempre quindi ragazzi state attenti e comunque vi ho detto tutto e ciao a tutti ragazzi alla prossima se vi piace mettete un mi piace e iscrivetevi ciao a tutti ragazzi alla prossima